Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Buongiorno a tutti, siamo con Francesca Miracca che ci racconterà tra pochissimo la nascita di una nuova associazione volgherese, si chiama Sud nel Cuore, nata in un periodo molto delicato per la nostra città, devo dire, cioè quello delle amministrative comunali. Come è nata questa associazione? L'associazione è nata qualche tempo fa a grande richiesta, diciamo, perché come sapete ero candidata alle comunali con la Lega Nord e essendo io di origine calabrese e avendo portato a casa qualche voto, diciamo, dai miei concittadini, soprattutto questi voti portati a casa con la speranza di creare eventi specifici dedicati alle persone del Sud che vivono a Voghera. Così ho fatto, insomma, ho creato questa associazione in collaborazione con Gianni Ferro, ragazzo siciliano e con Paolo Milani. E so che avete pensato di realizzare delle manifestazioni, degli eventi a Voghera, quindi per in un qualche modo portare alta la bandiera del Sud, valorizzare i gusti, le tradizioni, i sapori e ci sarà un evento anche nei prossimi giorni qua a Voghera in Piazza Duomo, credo sia il primo, no? Sì, esattamente, il 27 settembre siete tutti invitati, tutti vogheresi. Tutta la cittadinanza Nord e Sud. Anzi, vi rifarete gli occhi con una bella festa, un bel evento caloroso, creato appositamente per dare lustro all'Italia, i sapori d'Italia, i profumi d'Italia, dell'Italia tutta, ma soprattutto del Sud Italia. So che ci sono dei progetti anche per il futuro, mi parlavi di una festa in stile decisamente calabrese. Allora, diciamo che Paolo Milani è di Rò e a Rò la festa calabrese è un evento con un riscontro notevole, dura tre giorni e mia intenzione, mio sogno, creare una festa simile anche a Voghera. E so anche che c'è la volontà di valorizzare anche i rioni o comunque rianimarli. Assolutamente, è nostra intenzione, secondo richiesta chiaramente dei cittadini vogheresi, creare eventi nei vari rioni dove la gente ci chiederà, noi siamo a disposizione di ogni vogherese. Insomma, la prossima sarà al villaggio. Diciamo che vi volete divertire e volete far divertire. Esattamente, perché comunque chi non è stato al Sud e non ha vissuto le feste e eventi del Sud non sa cosa si è perso. Ecco, noi faremo questo, renderemo edotti tutti i vogheresi di questo calore e lo trasporteremo a tutti. A tutta Voghera. Faccio una provocazione politica, forse scontata, una calabrese che si è candidata con la Lega Nord. Sto seguendo la modernità della Lega, nient'altro che quello, perché tutti sappiamo che Salvini è per l'Italia tutta. Non vuole più salvare, la parola, diciamo, federalismo, secessione, padagna, sono state un attimino messe nel cassetto. Adesso, l'intento della Lega è quello di salvare l'Italia tutta, senza distinzione, valorizzare ogni regione d'Italia. Salvarla da che cosa? Dal governo Renzi. Dal governo Renzi. Quindi tu diciamo che simboleggia un po' la nuova Lega Nord. Esatto. 2.0. Esatto. Facciamo ora così. Esatto. Grazie.